Prossima esecuzione, anzi prossima ripetizione, Stammore. L'orchestra è diretta dal maestro Carlo Esposito e l'interprete è il vincitore del primo festival di Napoli. Un cantante che appartiene alla vecchia guardia, sì, ma che ha saputo entrare in finale ed è tornato alla ribalta quest'anno, Franco Ricci. L'orchestra è vero 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 L'orchestra